Come vedete, Nanghi è un elefante, sì, che sicuramente si ricorderà tutto. Ehi, Nanghi! Loro c'hanno da farti delle domande su Emmett la lontra. Chi? Emmett la lontra. Frequenta il tuo corso yoga da tipo buon sei anni. Non ricordo affatto questo castoro. Beh, in realtà è una lontra. Dai, è stato qui due mercoledì fa. Te lo riordi? No. Ma sì, indossava un bel gilet di lana intrecciata e pantaloni di velluto a costine, sai? Ah, aveva una clamata con un motivo Kashmir con un nodo molto stretto. Te lo riordi, Nanghi? No. Ah sì, che siamo usciti con lui e lui è salito su quell'enorme auto bianca con le rifiniture argentate. Ci avrebbe avuto anche bisogno di una giustatina al terzo cilindro. Te lo riordi, Nanghi? No. Eh, non è che per caso ricorda il numero di targa. Lo ricorda? Eh, come no. Allora era 2-9-TH-D-0-3. Zero-3. Wow, sono un sacco di informazioni utili, grazie. Ve l'avevo detto, Nanghi si ricorda tutto. Ha una memoria di ferro. Come vorrei avere anch'io una memoria d'elefante.